Gennaro Iennaco, il buttafuori 38enne di Castiglione di Cervia che nei giorni scorsi era stato arrestato per lesioni a Forlì dopo avere colpito al volto un 39enne di Ancona, Paolo Petrozzi, mentre entrambi erano in attesa dell'imbarco per un volo per la Polonia all'aeroporto, è stato scarcerato. La decisione è stata presa dal GIP Rita Chierici nell'udienza di Convalida. Occorrerà adesso attendere le motivazioni scritte per capire compiutamente la decisione del giudice. Nel frattempo buone notizie sulle condizioni di Petrozzi. È stato dimesso dall'ospedale forlivese con una prognosi di 21 giorni. Un notevole miglioramento rispetto alla situazione delineatasi al momento del suo ricovero, quando le condizioni erano apparse molto più gravi. I due si stavano per imbarcare su un volo diretto a Catovice per trascorrere una vacanza in occasione del Natale. In attesa di salire sull'aereo è nata una discussione, quanto pare, per il posto nella fila dei passeggeri in attesa. E alla fine Iennaco ha sferrato un pugno, mandando K.O. Petrozzi. Gli stessi protagonisti, i loro parenti e i legali di parte sostengono, per motivare l'accaduto, tesi completamente opposte. Da parte di Petrozzi è di aver subito un'aggressione gratuita, mentre l'avversione da parte di Iennaco è quella di essere stato provocato e di aver reagito alla minaccia. Entrambi le parti indicano nelle riprese TV del circuito di sorveglianza dell'aeroporto la prova della giustezza delle loro tesi. A questo punto è quasi certo che la querelle potrebbe continuare in tribunale a colpi di denunce incrociate.